come piove io come sei presto fai presto con l'ombrello buongiorno salve michele felippo si no che ci fai qua con che ci faccio ci abito anche tu si perché pure tu io abito qui da quanto tempo da gennaio sono otto mesi capito qua ehi madonna ma ci siamo incontrati no no e tu da quanto tempo hai? 15 anni 15 anni capito qua io cercavo informazioni sul palazzo come si sta come non si sta ti trovi bene? ti trovo bene per quel che sto io non è che sto a mo da otto mesi ti troverai bene non è che io solamente la sera da qua si venga a dormire non è che ma è pure io c'è per questo comunque si sta bene aria pura la pista sfumata playboy com'è che ti chiamavo? vabbè a scuola ti ho sposato ma no? ah che me lo fa fare da solo stasera lo trovo il divertimento anche qua come anche qua? qua ci sono 20 donne presenza totale femminile del palazzo 20 donne me? me ne sono fatte 19 non lo sposare a fare la diciannovesima proprio ieri 19? 19 eh qui chi me lo fa a fare? si va a raccontare tutte le presenze femminili e me? oh sai come sono? si è sempre stato così no non sono cambiato ma fa a piacere comunque eh? oh un caffè prendiamocelo no no la posta delle settimane ti dici tofano io no 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 bravo dai lo sai un po' di nome? un po' di nome? un po' di nome? un po' di nome si si no Filippo io mi ricordo Filippo guarda ci vediamo grazie oh ci vediamo Michele ti troverai bene fortissimo ciao un po' di nome si no Filippo è vero? non mi ricordo la cosa che vive è tutta in un solo momento è una favola che non è realtà assurdo eh eccoci qua amore quel Filippo quell'amico mio che ti dicevo no? c'è assurdo non pensavo che abitasse da noi veramente c'è il fatto di non vederlo in tutti questi otto mesi che stiamo noi qui tu immagina che lo chiamavamo playboy ed è rimasto playboy sai che mi ha detto? che cosa? è riuscito a contare quanta presenza femminile c'è nel nostro stabile ah e quante siamo? siete venti venti donne caspita bellissima tu immagina amore che mi ha detto che su venti donne eh se ne è fatte diciannove si è fatto tutte tranne una amore tranne una sai chi deve essere? la signora del terzo piano quella partorito da poco ogni favola è un gioco che si fa con te ed è vero soltanto a metà non è vero non ma ma Grazie.